Ben ritrovati, sono Alessandra Graziottin, vediamo in che modo il giocare con un pony amato, il montare a cavallo, il montare un ponino che adoriamo o che i nostri piccoli adorano possa tradursi in un netto miglioramento della loro salute mentale ma anche fisica. Abbiamo degli studi che sono stati pubblicati su Animals, una rivista scientifica molto prestigiosa nel 2022 in cui si è andati a vedere come si modifichi l'ormone dello stress che è il cortisolo e l'ormone dell'amore antistress per eccellenza ma anche l'ormone della salute l'ossitocina valutandoli nella saliva dei bambini, degli adolescenti studiati e dei loro cavallini. Visurandoli nella saliva è evidente che non c'è alcuna invasività né per i bimbi, adolescenti né per gli animali. Il dato straordinario è che è stato dimostrato che il montare a cavallo, in particolare lo studio è stato condotto su bambini e adolescenti con disturbi d'ansia molto severi, bene, il farli montare a cavallo con istruttori certificati, psicoterapeuti, quindi personale molto ben addestrato, comportava alla fine delle sessioni un miglioramento nettissimo nel senso che si abbassava in modo significativo l'ormone dello stress, il cortisolo, e aumentava l'ossitocina e questo correlava con un miglioramento della serenità nei bambini osservata sia dagli psicoterapeuti e dagli istruttori sia dai genitori. Questo è uno studio clinico che rinforza quello che tutti i genitori che hanno cuore, tutti gli istruttori sensibili, sanno per esperienza di vita e anni di professione, e cioè che i bambini che hanno la possibilità di condividere pomeriggi, ore, prendendosi cura del cavallino, non solo montandolo, ma anche pulendolo, accarezzandolo, strigliandolo, ritornando ad avere contatto con la vita vera, con il profumo di questi animali meravigliosi, gli oro occhi dolci, sentendo veramente come i due piccoli, il ponino e il bambino abbiano così tante cose in comune e si ritorna ai fattori essenziali della vita. Bene, ci conforta sapere che non è solo psicologia o che non è solo visione del genitore innamorato del piccolino con il ponino, no. Noi facciamo veramente del bene ai nostri bambini quando diamo loro la possibilità non solo di avere un gattino a casa o un cagnolino, ma anche di fare uno sport all'aria aperta che li porti ad avere anche rispetto delle regole, capacità di ascolto anche delle esigenze, dei bisogni, degli umori dell'animale, capacità di prendersi cura di un altro essere, di un animale diverso da sé, di non essere sempre centrali nell'attenzione dei genitori, ma avere un animale centrale per loro. Questo cambio di attenzioni, di vicinanza e di cura si dimostra essere profondamente curativo, l'amore che cura, profondamente capace di cambiare abitudini, stili di vita, patogeni per i nostri bambini. Torniamo a riportarli alle origini della vita, alla vita fuori, luce naturale e alla sera, nanna alle nove, buio naturale, con animale veramente per amico che li aiuti a crescere meglio, più sani, più contenti, più felici. Grazie.